Pare, pare, pare che ci sia l'alga tossica. Ma io è il primo giorno che vengo qua quindi non le so dire niente, a dire la verità. Non ha saputo lei? No, no. Signora, pare che ci sia l'alga tossica? Senta, per quello che mi riguarda, problemi di salute non ne stiamo avendo. Siamo tornati dalle vacanze, non abbiamo avuto nessun tipo... Non è la prima volta che viene qua? No, no, io vengo da anni, quindi non ci è capitato nulla. Pare che sulla costa nord di Bari ci sia l'alga tossica, siamo venuti a vedere se è vero. Chi ve l'ha detto? Le nostre fonti dell'intelligence. Sto scherzando. No, sì, qualche volta l'ho vista l'alga tossica, però dipende dalla sensibilità della persona. Se uno è sensibile, anche moralmente, perché la morale influisce sul fisico, scienza e fede o psico e soma, prende, ma se uno è forte anche psicologicamente non intacca... A lei non è successo niente? Grazie a Dio, ho gli anticorpi grossi. L'acqua è fresca, ma... Ma... Pare che ci sia l'alga tossica? No, non c'è. Lei non ha avuto problemi? No, niente proprio. Ha fatto il bagno? Certo che l'ho fatto. Pare che ci sia l'alga tossica? Così si dice, però... Lei ha avuto problemi? No, io vengo spesso qua e non ho nessun problema. È voglia. Lei l'ha avuto modo? Cioè, molto leggero. Tipo che cosa ha avuto? Un po' di tosse, un giorno è andata via. Non si è allarmata che fosse altro di questi tempi? No, è passato subito, quindi non ha avuto più problemi. Signora, lei ha avuto sintomi di alga tossica? Certo. Siamo sicuri che è alga tossica? Sicuro, sicuro, sicuro. Con febbre, febbre, dopo due giorni avevo proprio la tosse e il catarro proprio. Dopo due giorni sono passati i sintomi, però c'è chi è stato peggio di me anche.